Buongiorno cari amici, stasera vorrei rispondere a una curiosa argomentazione che è un'ennesima curiosa argomentazione che viene mossa ai danni del nostro Presidente del Consiglio, Cavaliere Berlusconi. Adesso qual è questa argomentazione? Che siccome è stato più volte ricattato, quindi da Dario, adesso da questa egiziana, poi vedremo questo argomento, e non ha accettato questi ricatti, ciò lo renderebbe maggiormente vulnerabile a potenze straniere. Quindi, secondo questa argomentazione, siccome ha rifiutato dei ricatti, che l'hanno portato chiaramente nella condizione in cui si trova, perché non avendo accettato il ricatto del silenzio, tutte queste donne hanno parlato, e quindi chiaramente l'hanno messo in questa condizione di difficoltà. Adesso lui si presenta, magari un emissario straniero, gli dice, o riveli la posizione degli armamenti strategici nazionali, oppure diciamo che sei andato a letto con una ragazza. E come risponderebbe Berlusconi? Sì, ho paura, ho paura, mi sputtanerete! Cioè, chi gli dice? E dillo pure, tanto sputtanato per sputtanato. Noi, diciamo, ci dovremmo preoccupare di una persona proba, un prodi, un marrazzo, che sono perfetti, che hanno una dignità. E a quel punto che può succedere? Che un marrazzo va con un transessuale, oddio, lo potranno dire, lo potranno dire, e allora a quel punto è andato bene che sono stati i carabinieri a trovarlo, poteva essere altrimenti una potenza straniera, e gli diceva, o riveli la posizione degli armamenti strategici nazionali, oppure ti dice, diciamo che sei andato con Natali, e quindi lui, come ha tentato di corrompere i carabinieri, avrebbe cercato anche di accettare il ricatto della potenza straniera. Quindi noi dovremmo essere garantiti da questo, dallo sputtanamento di Berlusconi per la nostra sicurezza nazionale. Certamente, che altro gli potrebbero trovare che di più di essere andato con le minorenni, di aver, non lo so, che cosa non gli è stato detto a Berlusconi? Cioè, dovrebbe, non so, adesso, sinceramente non mi riesco a immaginare come potrebbero ricattarlo. Adesso, avendo, diciamo, saldato il conto con Berlusconi, mi vorrei appuntare sulle corruttrici. Adesso, stiamo vedendo che la magistratura è molto severa, è molto severa, addirittura intercetta non la persona che accusa, ma le persone vittime, cioè addirittura si mette ad ascoltare le ragazze per capire se parlano di Berlusconi, quindi è molto rigida, è molto rigida. Poi che succede? Questa rigidità, di fronte a fatti manifesti, come dire, si vaporizza. Adesso abbiamo una rea confessa, come la da Dario, che ha detto che ha tentato di comprare il silenzio di Berlusconi, l'ha detto in televisione, non è che è un... chiedendogli di autorizzare un abuso edilizio. Adesso tutti lo possono leggere questa cosa, uscita su Repubblica, diciamo, poi molto probabilmente è stata consigliata di stare in silenzio. E non mi pare che sia partita un'indagine per questo tentativo estremamente grave di corruzione, cioè ricordiamo che è un pubblico ufficiale Berlusconi, cioè gli è stato detto guarda che se non violi la legge, quindi partecipando diciamo a un illecito, io dico che sei andato a letto con me. Adesso che succede? Di nuovo, adesso abbiamo una nuova rea confessa, questa ragazzetta, diciamo, che è abusato della fiducia di Berlusconi, che ha ammesso di aver chiesto, non so quanti milioni di euro a Berlusconi, altrimenti avrebbe parlato. Ma questa che cos'è? Non è un tentativo di corruzione di un pubblico ufficiale? Io mi domando, adesso vediamo la magistratura la Taddario, non so, forse ci saranno delle indagini che tra poco vedremo che sarà stata condannata a vent'anni di carcere per questo gravissimo reato, ma non se ne sente. Adesso vediamo questa ragazza che ha ricattato Berlusconi per due milioni di euro per il suo silenzio, se verrà fatto qualche cosa. Adesso, se qualcosa verrà fatto vuol dire che in magistratura c'è qualcuno che è un pochettino equilibrato. Temo però purtroppo che questi tipi di reati non raccolgono l'interesse dei giornali, dei poteri forti. I reati che interessano sono quelli di Berlusconi. E perché? Poi sappiamo noi tutti come sta la condizione della magistratura, adesso sempre vedendo l'efficienza con cui vengono sanciti tutti i comportamenti, per quanto siano abberranti di Berlusconi, ci immagineremmo che tutto il resto, tutti gli altri reati vengano perseguiti con la stessa severità. E poi andiamo a vedere che ci sono vent'anni di ritardo, quindi abbiamo il paragone di chi è di Roma dei tassisti, i tassisti potrebbero dare servizio a Roma, però c'è il traffico, c'è lo stress, eccetera, eccetera. Sanno che i viaggi dall'aeroporto gli rendono 50 euro, bene o male sono tutti in autostrada, quindi che fanno? Si mettono tutti all'aeroporto e fanno, magari fanno due viaggi invece che 50 viaggi, però 50 euro, 50 euro, sono svoltato la giornata e sono risparmiati lo stress e quant'altro. E chiaramente cosa fanno i giudici, i giudici diciamo, i procuratori, i giudici speriamo che almeno loro rimangano autonomi, nel senso, per quanto con l'unione delle carriere non è che si riesce a fare tutta sta chiarezza, ma cosa fanno? Potrebbero rivolgersi a curare i torti, i piccoli torti, quindi civili, penali? Invece no, che fanno? Però restituire una pecora al pecoraio a cui è stata rubata, probabilmente gli fa uscire un trafiletto sull'unione sarda, e invece che riuscire finalmente a inchiodare Berlusconi gli crea, diciamo, gli creerebbe una ricaduta mediatica di potere, forse, speriamo di no, anche di carriera più elevata. E quindi dai, tutti attaccare Berlusconi e il poro pecoraro, se possa, tanto c'è un'altra 50 di pecore, la 51esima si attacca. E poi, da Dario e mo' la nuova corruttrice, vediamo che cosa gli succede, e speriamo che ci sia un pochettino, almeno un procuratore, dico non dico uno, non dico che tutti devono, ma c'è una persona rea confessa che dice ho tentato di corrompere il Presidente del Consiglio. Cioè, non c'è un'indagine, un'intercettazione, non c'è niente. Ci stanno due persone che hanno detto ho tentato di corrompere senza successo, quindi ho tentativo di corruzione, il Presidente del Consiglio, un altissimo ufficiale dello Stato. Ora dico, un procuratore che apra un'indagine su queste persone ci sarà? Chiudo con questa domanda, chiaramente potete tutti rispondere, fare i video. Io sono qui, saluti!